Il 25 aprile e gli ebrei italiani. Una storia sull'Akba Omer. Giornata della Terra, le iniziative dell'ambasciata di Israele e della comunità ebraica. Buongiorno e bentornati a Shalom News, il notiziario settimanale di Shalom Channel, la prima UFTV ebraica italiana. Oggi, 25 aprile, ricordiamo la liberazione dell'Italia dal nazifascismo nel 1945. Una giornata fondamentale anche per gli ebrei. Ci spiega perché lo storico Amedeo Ostiguerrazi. 25 aprile 1945. Per l'Italia è la liberazione dal nazifascismo e la fine della guerra. Ma anche per gli ebrei è una data profondamente significativa, come si vede nelle immagini delle celebrazioni degli anni scorsi. Ma per gli ebrei ovviamente ha un significato ancora più profondo, è proprio la fine dell'incubo. Mentre gli italiani potevano in qualche modo essere estranei anche alla guerra, in qualche maniera. Per gli ebrei no. La guerra dichiarata dal nazismo agli ebrei prevedeva lo sermino di tutto il popolo ebraico. Per cui chiunque fosse considerato di razza ebraica era in pericolo. La fine della guerra ovviamente sancisce la fine di tutto questo. Alla liberazione gli ebrei contribuiscono attivamente, sia nella resistenza, sia nella brigata ebraica. La resistenza ebraica è stata molto più forte e numerosa di quanto non si pensi. Le stime attuali parlano di circa 1000 ebrei, cioè il 4% della popolazione ebraica attiva nella resistenza, che è un numero, una percentuale molto superiore a quella degli altri italiani. La brigata ebraica ha avuto un ruolo fondamentale sia simbolico che proprio fattivo. La brigata ebraica, i soldati ebrei hanno combattuto per tutta la campagna, dall'Africa fino alla liberazione. Hanno avuto un ruolo fortissimo da poterista simbolico nella liberazione di Roma e quindi nella riapertura del Tempio. E poi hanno contribuito a liberare Bologna, tanto per dirne una. Insomma, è stato importante quello che hanno fatto gli ebrei. E dimostrano ancora una volta, nonostante tutto, di amare questo paese e di voler combattere per questo paese, per combattere per la libertà di questo paese. È una minoranza che ha avuto un ruolo fondamentale, nonostante tutto ciò che gli è stato fatto e nonostante tutto ciò che ha subito e passato. La sera del prossimo 29 di aprile sarà la vigilia del 33esimo giorno dell'Omer, l'Agba Omer. Introduciamo questa ricorrenza con una spiegazione di Rab Riccardo Di Segni. L'Agba Omer è un giorno allegro in cui si sospendono le manifestazioni di lutto di queste sette settimane dell'Omer, tra Pesach e Shawot, che separano l'inizio della mietitura dell'orzo dall'inizio della mietitura del grano. Una giornata dai molteplici significati, che in Israele è molto sentita e celebrata anche con un pellegrinaggio a Meron, in Galilea, dove sta la tomba di Shimon Bar Yochai. L'Agba Omer è praticamente la festa, il compleanno e anche il giorno della morte di Shimon Bar Yochai, che è il maestro a cui viene attribuito lo Zohar ed è il rappresentante della resistenza ebraica contro la cultura, più che altro oltre che la politica dell'impero romano. Il ricordo di Shimon Bar Yochai è presente in maniera intensiva nella nostra comunità, perché ogni volta che c'è un evento familiare con la Mishmarah si canta il Bar Yochai, con una melodia tipica della nostra comunità. È un inno mistico, reso estremamente popolare. L'inno a Bar Yochai è stato scritto da un rabbino importante di Tripoli, Shimon Lavi. Questo inno da Tripoli si diffuse in tutto il bacino mediterraneo, poi siccome la comunità di Roma ha avuto delle influenze importanti da parte degli ebrei del Nord Africa, prima ancora dell'immigrazione in massa del 67, noi abbiamo introiettato questo inno e ce lo teniamo e ce lo conserviamo. Ed è un segno molto interessante, anche molto bello, del rapporto che esiste, anche se non si capisce, ma comunque c'è, tra la tradizione tripolina e quella ebraica romana. Quindi buon lakbole. Lo scorso 22 aprile è stata la giornata della Terra. Per celebrare l'ambasciata di Israele in Italia e la comunità ebraica hanno dato vita ad alcune importanti iniziative. Le ha seguite per noi Luca Clementi. L'occasione è la giornata mondiale della Terra, ma la celebrazione al Bioparco di Roma va ben oltre alla sostenibilità ambientale e alla difesa del pianeta. L'ambasciatore di Israele in Italia Dror Eidar e l'ambasciatore del Bahrain Nasser Mohamed Yussef Al Belushi hanno piantato sulle rive del laghetto del Bioparco un albero insieme alla sindaca Virginia Raggi. Un evento storico perché per la prima volta dalla sottoscrizione degli accordi di Abramo che hanno portato alla normalizzazione dei rapporti tra i due paesi medio orientali, le missioni diplomatiche a Roma sono insieme per realizzare un progetto. Il riavvicinamento tra Bahrain e Israele ha anche contribuito in un certo senso a ripulire il Medio Oriente dall'odio e dalle immagini errate sui nostri vicini. Grazie. L'impegno del mondo ebraico per la giornata mondiale della terra è proseguito poi nel corso della settimana con la piantumazione di un albero in piazza Cairoli, nel cuore della capitale. A partecipare, oltre all'ambasciatore Idar, la presidente della comunità Ruth Dureghello e la presidente del municipio primo, Sabrina Alfonsi. Per oggi è tutto, vi ricordiamo che potete ricordare le precedenti edizioni del nostro DG sul canale YouTube Shalom Channel e seguiteci anche sul nostro sito www.shalom.it e su tutti i nostri social dove troverete aggiornamenti quotidiani. Grazie per essere stati con noi e Shalom!